Ciao a tutti e benvenuti. Oggi sono qui per parlarvi di quello che sta accadendo nel mondo. Alcuni dicono che c'è qualcuno che vuole preparare l'umanità a quello che sta per accadere. Ma che cosa sta per accadere? In questo video vi mostrerò dei filmati che sono stati ripresi in varie parti del mondo in cui vedrete degli strani fenomeni nel cielo. Si parla di luci ad intermittenza che a quanto pare non hanno nessuna fonte. Nel senso che si vedono queste luci nel cielo. Lo sapete molto spesso per esempio quando si va alle feste o ai concerti, quando mettono quei fari superpotenti che quando il cielo è nuvoloso le luci riflettono sulle nuvole. Quindi sembra che magari tra le nuvole ci sia qualcosa ma non c'è nulla perché la luce riflette da sotto, va a riflettere. Bene, in questo caso, nei video che oggi vi mostrerò, non c'è nessuna fonte che provoca queste luci ad intermittenza. A quanto pare è come se ci fosse qualcosa tra le nuvole. È come se qualcosa si nascondesse tra le nuvole. In altri video invece vedrete proprio dei lampi e dei fulmini strani e tra i lampi e i fulmini vedrete anche degli oggetti non identificati. Perché ci sono alcune persone che dicono che tutto quello che sta accadendo probabilmente vuole avvertirci dell'imminente arrivo degli extraterrestri sulla Terra. Altri invece pensano che siano delle armi militari, una sperimentazione in campo militare. Prima di cominciare e prima di mostrarvi questi video, devo dirvi proprio con la mano sul cuore che anche a me è capitato di vedere questo strano fenomeno. Mi trovavo in auto, stavamo tornando a casa con la mia famiglia e abbiamo proprio visto questo fenomeno nel cielo. E queste luci, era buio, era buio e comunque si stava guidando in una parte un po' tipo in periferia, ok? Quindi non c'era nulla, nulla al di sotto che poteva provocare questi lampi o comunque il riflesso. I lampi che abbiamo visto erano di colore rossastro, quindi vi lascio soltanto immaginare, ed era davvero molto strano perché erano innaturali. Noi sappiamo che i lampi, molto spesso cosa succede? Che tra un lampo e l'altro passa comunque qualche secondo. Ci sono per carità anche dei lampi che è come se si verificassero quasi ad intermittenza, però i tempi non sono mai uguali. Magari tipo c'è un lampo, poi dopo due secondi un altro, poi ne passa uno un altro, ne passano cinque secondi un altro. Invece queste luci che io stessa ho avuto modo di vedere erano così, tipo pulsanti. Era come se ci fosse qualche, davvero era come se ci fosse qualcosa tra le nuvole a provocare questa luce ad intermittenza. Qualcuno di voi starà chiedendo, ma perché non hai registrato? Ho provato a registrare, ma visto che comunque era buio, non sembrava. Nel senso che a vederlo rendeva di più sul telefono, comunque sul cellulare, no. E quindi ho lasciato perdere e ho evitato anche di inserire il video, o meglio il filmato da me registrato in questo video. Però ragazzi, credetemi, io stessa ho visto questo fenomeno ed è davvero strano. Partiamo col primo video, per esempio, prima di parlare delle teorie. Allora, nel primo video è stato registrato precisamente in Michigan. E si può vedere appunto nel cielo questa luce rossastra ad intermittenza, che quasi pulsa. E se voi andate anche ad analizzare i tempi, sembra davvero una luce provocata, o meglio, emessa da un oggetto artificiale. Non sembra naturale questa luce. E come potete vedere, in basso non c'è effettivamente una fonte di luce che provoca in qualche modo questo riflesso sulle nuvole. Il secondo video è stato invece registrato in Nebraska. E che cosa vediamo? Vediamo fondamentalmente dei lampi, dei fulmini. E ad un certo punto, tra questi lampi e fulmini, compare qualcosa di non identificato. I testimoni oculari giurano e spergiurano di aver visto proprio un UFO nel filmato. Infatti si vedono ad un certo punto, per pochi secondi, degli oggetti proprio non identificati tra questi fulmini e tra questi lampi. Ecco, perché alcuni dicono che probabilmente sono proprio gli extraterrestri a provocare tutto questo. Ovviamente ci sono tantissimi filmati sul web. Beh ragazzi, anni fa per vedere o filmare una luce misteriosa nel cielo ci si sedeva per giorni fuori dalle proprie case. O comunque bisognava recarsi nei pressi, che ne so, dell'area 51. Oggi invece basta uscire la sera sul balcone per vedere un fenomeno diverso al giorno. Ovviamente esistono varie teorie riguardanti questi fenomeni. Alcuni parlano di esercitazioni militari, altri di UFO. Ci sono anche coloro che associano queste luci ad una pioggia di meteoriti, anche se non mi sembra proprio chiara questa teoria, se così la vogliamo chiamare, quella riguardante la pioggia di meteoriti. Si parla in molti casi del cosiddetto Project Blue Beam. Ma che cos'è il Project Blue Beam? Non sarebbe altro che una tecnologia superpotente in grado di proiettare immagini olografiche nei cieli. Attraverso questa tecnologia, per dirla in poche parole, loro potrebbero anche simulare un'invasione aliena o la seconda venuta di Cristo, no? Andando comunque a manipolare in questo caso le menti dei religiosi, ma anche degli appassionati di ufologia. Si dice che queste luci potrebbero essere provocate appunto da questa tecnologia che mira a manipolare le menti umane. Infatti in questo periodo quante volte avete sentito? Ah, gli Stati Uniti hanno abbattuto un UFO, quegli altri hanno abbattuto un altro oggetto non identificato. Ecco, adesso stanno un po' giocando la carta dell'invasione extraterrestre. E infatti ci sono addirittura persone che hanno paura, questo ovviamente si percepisce nei luoghi più grandi, ve lo posso assicurare. Ci sono addirittura persone che sono state invitate in alcuni talk che dicono di aver paura degli extraterrestri, della venuta degli extraterrestri. E se voi guardate questa situazione in quest'ottica, beh, il loro piano diciamo che ha dato i suoi frutti. Perché effettivamente ci sono persone che sono completamente nel panico per queste luci. Tra l'altro ci tengo a precisare che queste luci non si verificano esclusivamente quando il cielo è nuvoloso, no? Si verificano anche quando è nuvoloso, soprattutto perché è come se le nuvole nascondessero qualcosa. Però alcuni segnalano di aver visto queste luci anche con il bel tempo. E inoltre ci sono anche tantissime persone che dicono di aver percepito dei rombi, proprio dei suoni forti, come dei boati, nel cielo, provenire dal cielo. Ecco perché si parla di velivoli alieni che probabilmente in qualche modo riescono a mimetizzarsi. Noi è come se vedessimo la luce, non vediamo la fonte che secondo alcuni è la nave aliena, ma vediamo esclusivamente la luce, proprio perché la nave aliena riesce in qualche modo a mimetizzarsi grazie anche sicuramente a qualche tipo di tecnologia super avanzata. Ho voluto mostrare questi filmati nel video perché penso che siano davvero molto interessanti. Ripeto, io stessa ho visto questo fenomeno nei cieli ed è davvero strano, è davvero bizzarro perché effettivamente sotto non c'è nulla. Quindi davvero rimani lì e ti chiedi ma che cos'è? Da dove proviene? Chi è che lo provoca? Ed è proprio questo il quesito che voglio porvi oggi. Chi è che provoca questo strano fenomeno nei cieli? Ma soprattutto perché? Per impanicare l'umanità? O sono forse gli extraterrestri a provocare quelle strane luci? Beh, fatemi sapere tutto quello che volete. Io spero di non avervi annoiato e anzi, spero di avervi tenuto compagnia. Vi auguro un buon proseguimento e ovviamente vi aspetto sempre qui sul mio secondo canale con tantissimi nuovi video.